Benvenuti a tutti, io sono Stefania Liverini e qui con me c'è Vittoria Borracci e Serena Melillo e noi appunto siamo il gruppo che ha ideato, progettato appunto forchette di cartone. Insomma vi diamo il benvenuto qui, il laboratorio è stato accolto con grande entusiasmo, abbiamo avuto una folla di persone che volevamo partecipare e poi per fortuna siamo anche riusciti ad allargare un po' i numeri e quindi eccoci qua oggi. Sappiamo che ci sono anche dei problemi meteorologici perché ci sono delle persone che arrivano da Gravina, da Altamura che stanno avendo delle difficoltà però penso che ci raggiungeranno più in là nella giornata. E quindi benvenuto a tutti, oggi la giornata insomma poi ve la raccontiamo via via, poi insomma vi spieghiamo anche un po' meglio che cos'è forchette di cartone, come è nata questa idea appunto di legare l'artigianato, l'illustrazione e il cibo, il food, il social food. E siamo ospitati qui all'interno di Vita Pugliese, nel corso della mattina ci racconta anche qualcosa su Vita Pugliese Pasquale Bolasora che è appunto socio di Faber, fondatore appunto di questo ristorante. E quindi benvenuto a tutti, io passo subito la parola al referente dell'Arti che appunto ci racconta un po' anche insomma ci introduce a questa iniziativa della Regione Puglia. Sì, buongiorno e benvenuti, io sono Domenico Centrone, scusate le spalle, sono uno dei referenti per l'appunto dell'iniziativa Laboratori dal Basso che è per l'appunto l'iniziativa regionale voluta dall'Arti, quindi l'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione e il programma regionale per le politiche giovanili bollenti spiriti, come diciamo iniziativa di supporto a tutte le giovani in realtà pugliesi è un supporto che come dice il suo stesso nome, il nome stesso dell'iniziativa, è un supporto che è volto all'accrescere le competenze imprenditoriali e manageriali delle giovani in realtà pugliesi, con un approccio totalmente dal basso quindi l'essenza dell'iniziativa sta nel suo stesso nome, quindi sono dei laboratori dal basso. In pratica sono i giovani pugliesi che sono chiamati per l'appunto a definire dei veri e propri percorsi di apprendimento più o meno strutturati e quindi sono loro a definire il cosa imparare, da chi impararlo e come impararlo quindi la palla viene passata in mano per l'appunto ai giovani pugliesi che hanno la possibilità di apprendere sulla base dei propri bisogni di apprendimento. L'iniziativa Laboratori dal Basso si declina in tre azioni i laboratori, le testimonianze e mentoring. I laboratori sono per l'appunto dei percorsi più o meno strutturati che possono durare fino a 100 ore, questo per l'appunto di oggi che parte oggi è un laboratorio. Poi ci sono le testimonianze che sono degli incontri one shot, quindi incontri brevi con relatori che abbiano fatto qualcosa di rilevante nel campo dell'innovazione o dell'imprenditoria in qualunque settore e poi c'è una terza iniziativa che è un'iniziativa di mentoring a cui alle giovani realtà pugliesi, quindi alle giovani associazioni e microimprese, viene fatto affiancare, viene affiancato un mentore, quindi una persona senior che abbia già maturato esperienze e che quindi mette a beneficio della giovane realtà la propria esperienza e le proprie competenze. Di queste tre iniziative le prime due laboratori e testimonianze sono concluse, sono chiusi gli avvisi, attualmente sono in corso di realizzazione, tutti i laboratori e le testimonianze approvate e quindi l'invito è a tenere monitorati i nostri canali, il sito internet o la pagina facebook per essere aggiornati costantemente su tutti i laboratori e le testimonianze in corso e in programmazione da qui fino al 31 di gennaio. Invece qualora vogliate partecipare ed essere affiancati magari da un mentore potete ancora farlo, quindi l'iniziativa di mentoring ancora attiva lo sarà fino al 31 gennaio. Anche per questo il riferimento è sempre il nostro sito internet laboratoriedalbasso.it. Io vi ringrazio, ringrazio naturalmente i proponenti per aver proposto questo laboratorio perché se è possibile, se oggi siamo qui è grazie a loro, naturalmente ringrazio i docenti per aver accettato l'invito ed essere qui, voi naturalmente per aver mostrato interesse nei confronti di questa iniziativa, io vi auguro un buon laboratorio. Allora, io farei, diciamo, visto che ci stiamo presentando e stiamo appunto accogliendo gli ospiti quindi per dovere di ospitalità, prego, farei appunto intervenire adesso Pasquale Bonasora che appunto ci ha aperto le porte di Vita Pugliese, di questo luogo appunto che non è solo un ristorante adesso ce lo racconta Pasquale. Innanzitutto benvenuti, benvenuti a tutti. Quando Stefania ci ha parlato di questo laboratorio ci è sembrata la cosa più naturale del mondo realizzarlo qui perché Vita Pugliese, diciamo, nata ad agosto, quindi siamo aperti da pochissimo tempo sa cosa non vuole essere, non sa ancora cosa diventerà perché noi non vogliamo essere un ristorante. Diciamo, qui si mangia e crediamo si mangi anche bene, però intorno a questo luogo vogliamo che nascano tutta una serie di esperienze. Scegliamo con molta attenzione innanzitutto i nostri fornitori, siamo attenti sia ad aspetti etici tra i nostri fornitori c'è Libera Terra, quindi con tutta la gamma dei prodotti che proviene dai terreni confiscati e siamo attenti anche al processo produttivo. I nostri, diciamo, ci divertiamo ad andare in giro per la Puglia a scovare piccolissime esperienze però qualitativamente, diciamo, molto elevate che ci forniscono i loro prodotti. Impostiamo con loro un rapporto basato essenzialmente sulla fiducia e cerchiamo quindi di costruire un modello economico locale che non è basato sul profitto. Naturalmente siamo anche attenti al contesto economico perché far sopravvivere un'esperienza ci impone di essere attenti a determinati fattori. Però noi pensiamo che i fattori economici siano una semplice conseguenza di rapporti umani costruiti nel tempo e questo stiamo cercando di fare qui. Avvieremo nel corso dei prossimi mesi anche esperienze di agricoltura sociale con alcuni dei nostri fornitori, realizzeremo esperienze di inserimento lavorativo sempre in campagna e quindi alla fine Vita Pugliese diventerà una vetrina di tutto ciò che li ruota intorno. Per questo dicevo all'inizio che ospitare questo laboratorio per noi è sembrato assolutamente naturale. Vi auguro di trovarvi bene qui da noi, vi do il benvenuto qui a Vita Pugliese e vi auguro buon lavoro. Allora vogliamo dire qualcosa sulla mattinata a questo punto? Allora, va bene un po' magari prima di entrare nel merito della mattinata però facciamo così che ci presentiamo un attimo così vi spieghiamo anche come c'è nata un po' questa idea perché alla fine noi veniamo da esperienze molto differenti, anche le persone che abbiamo messo insieme all'interno di questo laboratorio vengono da esperienze completamente diverse, cioè c'è l'editoria, c'è l'illustrazione, ma c'è anche chi si occupa di grafica e non tutti immediatamente ricollegabili al settore del food, quindi è stato un percorso un po' contorto che ci ha portato qui. Io sono appunto, come vi dicevo, Stefania Liverini e mi occupo, mi piace giocare con i libri, con i libri dei bambini e sperimento attraverso un progetto che si chiama La Coda dei Libri che porto avanti anche con Patrizia Scardigno che sta qui con noi, dell'esperienza appunto di ricerca, di sperimentazione, di gioco intorno al mondo dei libri e quindi appunto c'è questa parte diciamo all'interno di questo laboratorio, che la curiosità rispetto alla carta e di tutto quello che appunto intorno a un libro, a un quaderno si può fare raccontare. E poi qui c'è Vittoria. Sì, mi presento, sono Vittoria Borracci, rappresento l'associazione Casa e Bottega che si occupa un po' di fare ricerca artigianale all'interno delle botteghe e quindi cerchiamo in qualche modo attraverso corsi di formazione di riappropriarci di alcune attività artigianali tradizionali per poi un po' reinterpretarle. Contestualmente tra l'altro di mio ho una forte passione per l'artigianato e quindi anche di mio faccio ricerca in tal senso. E quindi diciamo che l'unione tra Stefania e me e Serena è stata anche, tu dici, contorta, ma forse anche naturale. Sì, non contorta direi. Perché tra l'altro, a parte questo laboratorio, siamo comunque tre amiche e molto spesso ci siamo intersecate per diversi progetti. Per cui diciamo che è stato facile incastrarci, ecco. Poi naturalmente ognuno si è occupato di cose diverse a seconda un po' della propria predisposizione e delle proprie competenze. Posso la parola a Mare Serena? Che non sa parlare al microfono. Posso parlare senza? No, lo streaming ho bisogno del microfono. Sono Serena, ho una libreria qua a Conversano, una libreria delle storie nuove. È una libreria per tutti, grandi bambini, però la cosa che mi piace di più sono i libri per bambini e l'illustrazione che nel tempo sono diventati anche un po' il mio mestiere, a parte la passione. E quindi diciamo che l'unione con, come diceva Vittoria, è naturale perché qui abbiamo cercato di mettere insieme tutte le nostre passioni e i nostri lavori, per qualcuno più lavoro, per qualcuno un po' meno, però così basta. Non so parlare. Allora, un'altra cosa, poi sarà interessante perché anche l'aula che abbiamo formato è variegata, cioè, diciamo, in questo senso è una realtà complessa, non diciamo contorta, però sicuramente c'è una grande complessità, ecco, sia nella tipologia di laboratorio, ma anche appunto in voi che siete venuti qui a seguirci, perché appunto abbiamo persone, insomma, qui avremo modo di conoscerci anche appunto in questi due giorni, che vengono da esperienze sia appunto della grafica, dell'illustrazione, ma anche chi viene dall'esperienza dell'accoglienza, che può essere accoglienza turistica, piuttosto che appunto nel settore della ristorazione, c'è chi appunto, pur non essendo né grafico né artigiano, vuole capire appunto rispetto alla sua impresa come può imparare a declinare, diciamo, dei messaggi. Ecco, forse una parola sul senso del laboratorio è proprio questo. Diciamo, l'idea alla base che ci ha spinto in questa direzione è stata una vicinanza, ecco, che noi abbiamo trovato tra quelli che sono i progetti di innovazione sociale nel settore dell'alimentazione e della ristorazione, all'artigianato, alla grafica artigianale, all'editoria artigianale, perché siamo convinte che il mezzo attraverso il quale appunto viene comunicato qualsiasi messaggio non è neutro, ma appunto racconta già esso stesso qualcosa della storia appunto del contenuto. E quindi era importante, cioè secondo noi è importante che, come dire, che ci sia questa attenzione, quindi nel settore appunto dell'innovazione sociale applicata alla ristorazione o all'alimentazione, è sicuramente una risorsa poter raccontare i progetti appunto di questo tipo utilizzando delle forme che siano coerenti con quanto tu vai a raccontare. Quindi se tu stai raccontando di un prodotto a chilometro zero, lo fai attraverso un manufatto, che è comunque un manufatto artigianale, è stato stesso racconta già un pezzo di quello che poi magari trovi nel piatto o vai a comprare. Quindi diciamo questa è la base, tutto il pensiero che poi ci ha fatto sviluppare il laboratorio e poi ci ha fatto mettere insieme, come vi dicevo, persone diverse, non necessariamente persone che hanno esperienza direttamente nel food. Qui c'è Carmela D'Achille e poi ci saranno appunto Larissa Bertonasco, lei sì un'illustratrice che ha affrontato anche, su Carmela ci torniamo abbiamo la mattina, quindi dico giusto qualcosa sugli altri, poi finisce Larissa che invece lei è un'illustratrice tedesca che ha affrontato molto nella sua carriera professionale il lavoro proprio sul cibo, sul racconto del cibo e poi avremo invece Taipuglia che è un artigiano, un imprenditore di queste parti che lui è appassionato, che è dell'artigianato, del manufatto e quindi si è inventato poi un modo per raccontare quello che è il prodotto tipico pogliese attraverso appunto le manufatte artigianali, attraverso la tipografia. Poi ci sarà Francesca Renero, anche lei, lei viene da un'esperienza di illustratrice grafica e lavora molto anche lei recuperando attraverso, lei diciamo fa un portfolio molto grande, molto basso, però ha utilizzato le tecniche artigianali per raccontare appunto i suoi progetti che possono essere diversi, i suoi progetti di comunicazione, quindi utilizza l'intaglio della carta, il collage eccetera, cioè proprio anche lì manufatti per raccontare esperienze anche diverse. Poi avremo Santucci, viene prima, Santucci che è un, diciamo anche lui viene dal mondo della grafica, della grafica più che dell'illustrazione e lavorerà, lui lavora molto con le illustrazioni di carta e quindi gli chiederemo, anche qui lui non è che diciamo lavora esclusivamente sul food, cioè anche a lui abbiamo chiesto di declinare la sua esperienza poi all'interno del settore dell'alimentazione, del food eccetera, e quindi per raccontare un progetto di questo tipo. E poi da ultimo, Else Edizioni che sono invece, che è un'esperienza anche questa molto particolare, loro nascono come progetto di una scuola di italiano per stranieri, quindi diciamo nascono così e all'interno di questo corso viene deciso appunto di spostare la formazione sull'esperienza appunto della serigrafia e quindi sulla tecnica della serigrafia, da questa esperienza nasce una casa editrice, una piccolissima casa editrice che si chiama appunto Else Edizione, che si specializza in libri fatti solo appunto con tecnica serigrafia e chiamano autori, illustratori a sperimentare appunto questo tipo di metodo di lavoro. E anche a loro abbiamo chiesto, va bene sì la tecnica, però non interessa capire come questa tecnica la decliniamo dentro un contenitore, dentro un racconto che deve essere sempre quello del food. E quindi con loro diciamo poi chiuderemo tutta l'attività. Bene, detto questo, più o meno questo è un po' il panorama, poi appunto saremo tanti giorni insieme, cioè due giorni belli pieni e quindi avremo modo anche di conoscerci, di approfondire, insomma siamo qua a vostra disposizione per altri dubbi, domande. E io volevo spendere, ecco, giusto due parole adesso, perché poi appunto non avrete modo di conoscere Carmela D'Achille. Allora Carmela l'abbiamo incontrata grazie alla rete, quindi diciamo siamo molto felici. Un pesce, è stato un pesce, sì, è capitato assolutamente per caso. Insomma in vari giri appunto anche qui, questi sì un po' contorti, comunque è arrivato questo pesce e niente, noi siamo rimasti affascinati, non la conoscevamo, ne conoscevamo diciamo, non abbiamo, cioè ieri le abbiamo visti per la prima volta ai suoi quaderni, quindi insomma siamo rimasti molto colpite ecco dalla sua esperienza. Un'esperienza che come adesso vi racconterà è un'esperienza diciamo di confine, se possiamo dire così, perché c'è la sociologia, c'è l'antropologia, c'è l'architettura, c'è la grafica, c'è la manualità, c'è il prodotto artigianale, c'è una ricerca diciamo anche iconografica e quindi diciamo un progetto di quelli che a noi piacciono molto, perché appunto riescono a dialogare con mondi diversi e poi a fare una sintesi che è una sintesi bella, cioè perché è sicuramente la bellezza anche diciamo la cifra che racconta meglio anche il lavoro di Carmela. Quindi vi passo la parola ecco adesso alla nostra docente. Grazie. 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 Cioè chiediamo l'aiutino. Grazie. mi piacerebbe già essere un po' da questo lato del tavolo per poter essere quasi dall'altra parte non mi è mai capitato quindi scusate l'imbarazzo e tutto quanto grazie per essere qui vediamo che cosa succede è un esperimento nel senso che poi anche per me più o meno un anno dall'inizio di questo progetto è il primo laboratorio proprio sulle carte su edizioni precarie nel senso che con i laboratori sono un po' rodata perché comunque ne ho fatti altri però non ho mai fatto un laboratorio proprio su quello che sto facendo cioè su quello che ho avviato da un anno a questa parte su edizioni precarie e quindi sono contenta che Stefania, Vittoria e Serena mi abbiano invitato quando Stefania mi scrisse a marzo proponendomi questa cosa pensai wow, fantastico diciamo poi anche è stato bello che è passato tutto questo tempo anche per crescere, per pensare un po' che gli dico cioè come si nel senso una cosa è parle di istinto le cose parle di getto una cosa è raccontarle e vivere insieme ad altri l'esperienza che diciamo che uno fa quotidianamente adesso per esempio edizioni precarie sta cercando un po' di crescere quindi di inserire altre persone con cui avevo già lavorato in passato sempre facendo laboratori legati anche al riuso, al riciclo e alla trasformazione dei materiali e quindi diciamo cercando di inserire nuove forze che comunque arricchiscono e ampiano le possibilità perché poi appunto coinvolgere altre persone per esempio io non sono un'illustratrice quindi ho magari delle nel senso probabilmente diciamo in questo lavoro io faccio la ricercatrice seleziono i materiali e poi li assemblo quindi sono più un'assemblatrice e ogni tanto quella li timbro li insomma riprendo anche molto per esempio gioco cioè la cosa che mi piace è anche giocare sulle parole sui significati sulla anche la variazione del significato spostando variando il contesto quindi diciamo anche questo lavoro è proprio un lavoro da decontestualizzazione cioè cambiare cambiare il contesto di un oggetto di un materiale di una parola per vedere che cosa succede cioè che cos'altro può evocare e quindi niente sono appunto siamo qui per la prima volta in questo laboratorio tutti quanti e quindi diciamo il laboratorio sarà soprattutto appunto un'esperienza nel senso che come diceva Stefania prima si tratta di grafica ma a me è venuto da pensare che si potrebbe trattare cioè che mi piacerebbe che diventasse una nuova branchia della grafica che è l'etnografica nel senso che comunque come base diciamo fondamentale non c'è solo la ricerca della forma cioè la forma può essere una cosa molto efficace molto bella molto interessante da recuperare ma c'è anche il recupero appunto della storia di una storia diciamo di una storia specifica e in questo caso edizioni precarie si occupa di recuperare la storia dei mercati storici palermitani e diciamo vi non so se ci sono le foto perché magari con diciamo le foto stemperano tutto questo fiume di parole che potrei che vi potrebbe travolgere infatti si sono sul computer però non è non è collegato così diciamo evitiamo anche di nel senso che poi se vi se vi perdete qualche parola magari vi potete riagganciare alle immagini cercherò di non essere logorroica però nel frattempo vi dico che edizioni precarie è nata più o meno un anno fa ma in realtà poi è una cosa che è andata diciamo che è andata macerando si è andata formando lentamente nel corso diciamo di tre anni cioè da quando io mi ero trasferita a Palermo e e quindi è nata proprio come esperienza nel senso che io appunto venendo in realtà venendo da Roma venendo diciamo da altri da città più grandi da contenitori di storie un po' più dispersi dispersi dispersivi arrivata a Palermo mi sono ritrovata di fronte a una città che è un intrigo di storie diciamo un un budello di diciamo una città labirinto una città in cui tu puoi trovare le tue suggestioni una rete in cui puoi rimanere incastrato e quindi poi di tutte di tutte quelle che sono tutte le cose che la città in maniera violenta ti butta addosso puoi scegliere delle cose e decidere di raccontarle e quindi avrà qualche impostazione il problema tecnico cioè nel senso che non e vabbè io continuo o vuoi una mano e quindi edizioni precarie è appunto dicevo è un esperimento nel senso che non è una cosa cioè quando si fa un progetto prima parlavamo con non mi ricordo il nome con Domenico e di appunto delle di come come si fa impresa come si fa come si crea una start up diciamo qual è l'iter normalmente che ti porta ad avere un progetto imprenditoriale cioè un progetto con cui diciamo che diventa un lavoro con cui anche tu vivi mangi edizioni precarie è stato cioè nel senso è stato un ed è un esperimento che non è già diventato un'edizione cioè una una casa editrice ma è qualcosa che è iniziato in maniera un po' del tutto spontanea adesso si sta strutturando però la mia idea era diciamo o almeno appunto il mio la mia idea era ok partiamo cioè nel senso parto faccio delle cose realizzo delle cose e poi si andranno approfondendo si andranno arricchendo poi nascerà qualcos'altro e poi anche si cercherà di strutturare la parte economica la parte di impresa e tutto quello che ne consegue diciamo su cui ci siamo confrontati ieri anche un po' con Vittoria sul fatto che comunque fare artigianato o fare un'impresa creativa in realtà non è una cosa diciamo a cui noi siamo predisposti o per cui noi abbiamo delle attitudini o delle competenze nel senso che nessuno poi ci insegna all'università o comunque nel corso della nostra vita a fare impresa e quindi quando poi abbiamo un'idea che può essere più o meno interessante ci ritroviamo a dover scoprire da soli tutto quello che serve per fare in modo che questa idea cammini cioè che vada avanti da aprire un ristorante a fare cioè ad aprire un negozio una libreria o fare l'artigiano tutto quello che serve veramente tutto quello che è reale concreto noi non lo conosciamo e quindi edizioni precarie anche sta vivendo questo passaggio probabilmente anche molti di voi hanno delle idee che vorrebbero realizzare e che vorrebbero mettere in pratica che vorrebbero trasformare in un lavoro e c'è la difficoltà appunto a concretizzarle io ho pensato che appunto dovevo partire e poi imparare a fare il resto edizioni precarie appunto il nome edizioni è in realtà appunto quindi un work in progress nel senso che quello che ho portato per esempio oggi quello che vedrete oggi sono dei contenitori di vuoto nel senso che edizioni precarie è una casa editrice un po' strana perché questi appunto questi libri non hanno parole nel senso che appunto l'idea era di far parlare le carte cioè di fare in modo che il contenitore diventasse anche contenuto nel senso che solo appunto dalla selezione delle carte e giocando con i vari titoli con i vari tipi appunto di carte che poi possono essere la carta della frutta la carta del pesce la carta della carne la carta della caglia della semenza partendo da questo appunto da questo da questo gioco di materiali e di parole venivano fuori appunto dei contenitori ognuno diverso ognuno che vuole raccontare un po' del mondo da cui viene quindi in realtà non è un'edizione precaria non è un contenitore vuoto ma è anche un pieno perché diventa il contenitore diventa contenuto poi appunto come dicevo ieri a Molfetta ci sono stati ci saranno esperimenti più densi in cui entrerà diciamo in cui entrata entrerà nel discorso anche la parola ma mi piace pensare che non è solo il linguaggio verbale quello che deve comunicare e non è solo una valanga di parole o una valanga di immagini perché molte volte almeno adesso appunto questo mondo della microeditoria dell'autoproduzione a volte arriva all'eccesso un po' perché noi siamo abbiamo bisogno di eccesso abbiamo bisogno di eccedere sempre nel dare informazioni nel siamo strutturati un po' alla maniera di bombardamento cioè noi siamo bombardati da immagini bombardati da parole e allo stesso tempo quando ci troviamo a fare qualcosa vogliamo dire tanto vogliamo mettere tutto e invece l'idea appunto è che si metta poco che evochi e che nel complesso poi racconti qualcosa racconti i mercati infatti per esempio è stato divertente andare la primavera scorsa a Milano ad una fiera di microeditoria edizioni precarie in quaderni in realtà c'erano anche dei racconti della tradizione popolare e poi la cosa soprattutto bella era incontrare prima di tutto nessun milanese cioè non c'era un milanese nell'arco diciamo di tutta la fiera perché no io sono di Milano però vengo dalla Basilicata io vivo a Milano però sono della non so di Bari quindi non ho trovato un milanese infatti ero disperata cioè ero proprio un po' rattristata e però era bello parlare con per esempio c'era questa signora di Bari che stava lì che toccava le carte c'era chi li annusava chi chi mi raccontava perché poi il racconto non era cioè il racconto appunto veniva dagli altri nel senso che poi ci fermavamo stavamo lì a parlare ed erano loro che mi davano il racconto non ero cioè era in realtà solo l'incipit cioè il quaderno è solo uno stimolatore di racconti poi il racconto ritorna dagli altri e infatti anche un'altra cosa che dicevamo ieri è che magari un libro è un quaderno già finito un quaderno un libro che va scritto da chi lo compra quindi da chi lo prende e in più un'altra cosa di edizioni precarie era questa riflessione appunto sul valore che noi diamo alle cose cioè sul fatto che per esempio prendere questa carta che è una carta da imballaggio e imballarci dentro della carne della frutta formaggi pane rende questo oggetto effimero cioè totalmente effimero nel senso che è un oggetto che lascia il tempo che trova perché in realtà l'importante è il contenuto è un trasportatore di contenuti che poi viene buttato una volta che ti sei mangiato il pane il formaggio la carne e quindi non ha più senso ha senso solo cioè non ha senso solo nel trasporto comunque e invece farlo spostare il cioè cambiare l'utilizzo di questo materiale lo rende ancora un contenitore cioè è sempre un imballaggio però è un imballaggio di qualcos'altro un imballaggio di quello che uno ci vuole mettere cioè di parole di disegni di immagini e però non so sfido chiunque a poi a buttare una cosa nel senso che solo se uno è un momento di crisi mistica o di crisi di persone dice no basta tutto quello che ho fatto lo butto altrimenti diventa un contenitore che custodisce che continua a custodire la freschezza di qualcosa e che però a sua volta viene custodito viene conservato e questo è anche un lavoro cioè su appunto sulla sulla bellezza di alcune cose che noi abbiamo quotidianamente davanti agli occhi e molte volte non ce ne accorgiamo di quanto sono belle di quanto sono non so interessanti o comunque da utilizzare e invece magari cambiando un po' il punto di vista cambiando anche solo l'utilizzo possiamo dare grande valore a quelle cose diciamo questa era un po' una metafora per per spostare l'attenzione sui mercati quindi il punto di partenza di questo progetto era parlare dei mercati parlare di questa realtà che è in crisi che è molto bella ha una bellezza assurda ma sta scomparendo o meglio si sta trasformando in qualcos'altro per esempio non so se conoscete il mercato della Vuciria a Palermo è un mercato che sta diventando una fiera dei locali notturni si sta lentamente trasformando e decomponendo trasformando in qualcos'altro cioè la notte sta passando al giorno e il giorno in realtà vive un po' come decomposizione di quello che è successo la notte quindi le botteghe praticamente quelle che sopravvivano a stento si ritrovano ad esporre la loro mercanzia e la frutta la verdura la carne tra le bottiglie diciamo liquami vari cioè è veramente è questa anche comunque un'evoluzione una trasformazione non si vuole dare un giudizio su questa cosa è solo considerare il fatto che le cose cambiano vanno cambiando e quindi in realtà per esempio questo è un modo per fermarle per bloccarle un attimo e non lasciarle andare via anche perché quello che faremo noi oggi è vivere in parallelo un po' un'esperienza che si può vivere a Palermo vedere che cosa è successo a conversano cercando di sperimentare lo stesso metodo e quindi vedere se in realtà un po' l'abbiamo già visto perché già c'è stata una ricerca a monte vedere che tipo di carte si usano se si usano ancora le carte o se invece sono nati nuovi materiali che non si non significano per forza progresso o regresso significano cambiamento e quindi vedremo se alla fine ci ritroveremo a fare qualcos'altro rispetto nel senso possiamo fare più quaderni faremo non lo so delle sedie di plastica o delle insomma vediamo un po' che cosa che cosa verrà fuori però qualcuno diceva che per esempio alcune carte che ci sono in questi quaderni c'erano ancora poco poco tempo fa e anche io quando vado dai distributori dai rivenditori di carte gli chiedo una carta che avevo preso sei mesi prima loro mi dicono no questa in quadricromia non ce l'abbiamo perché costava troppo abbiamo quest'altra e ci sono delle stampe bruttissime ma no no questa non la voglio non la posso prendere oppure per esempio qui c'è una carta che è tipo l'antenato di quella che si usa adesso che è una carta che viene non so attraverso quale processo perché non sono andata proprio all'origine sarebbe bello anche andarci un giorno attraverso non so quale processo viene rivestita di cera e quindi invece di essere cioè non c'è plastica ma la cera fa da isolante ed è per questo che viene utilizzata per contenere corpi morti come pesci o carne pesce o carne e niente quindi volevo farvi vedere qualche foto ma il mio computer possiamo continuiamo quindi diciamo questa prima parte è un po' un racconto di quello che è stata la mia che è la mia esperienza palermitana e serve un po' come si svilupperà sì diciamo che il percorso del laboratorio si svilupperà un po' come il percorso che io faccio ho fatto diciamo faccio normalmente quando quando realizzo una cosa del genere nel senso che prima di tutto appunto c'è il il racconto cioè c'è il luogo e quindi c'è Palermo ci sono i mercati c'è questa questa ossessione per le carte o meglio ci sono vari layer vari vari diciamo vari motivi che poi spingono a prendere le carte e a trasformarle in qualcos'altro è un po' un po' ve lo de diciamo ve li ho ve li ho raccontati ah altra cosa importante è l'artigianà cioè il lato artigianale cioè del fare con le mani e usare il meno possibile la tecnologia che a volte infatti non funziona questo diciamo è un po' una mia cioè nel senso una mia attitudine penso che ormai l'uomo si divida diciamo quasi in due filoni nel senso che c'è per esempio mio fratello che diciamo ha un patito di tecnologia e io a volte io sono architetto e anche lui è architetto lui è bravissimo nel fare rendering cioè 3D queste cose io a volte lo guardo proprio un po' alienata e dico io non ci riuscirei mai e anche lo invidio però non vorrei mai fare una cosa del genere e viceversa c'è lui che mi guarda con una macchina fotografica tipo attaccata con lo scotch oppure una di quelle analogiche che che cucio le cose a mano che appiccico le cose con la colla e anche lui penso che penserà che sono un po' diciamo aliena e invece secondo me entrambe le cose sono molto attuali tipo qualche tempo fa una ragazza mi ha chiesto di raccontare questo progetto perché lei stava facendo un lavoro di tesi per l'università sugli artigiani laureati cioè sui laureati artigiani e sul fatto che sia un vero fenomeno cioè di massa questo che sta che sta accadendo proprio in questi nei nostri giorni molti laureati per vari motivi perché non riesco perché la loro creatività è frustrata perché non c'è nessuno che gli dà il lavoro perché perché sono perché odiano la tecnologia cioè per tantissimi motivi ritornano perché dopo aver studiato tanta teoria vogliono fare qualcosa di concreto per tanti per una serie di motivi fanno gli artigiani ma magari si inventano tutta un'altra cosa non hanno le basi non hanno la tecnica non sono andati a bottega non e quindi nasce qualcosa che è un ibrido perché sicuramente la deformazione comunque la forma mentis di uno che ha studiato e che però non ha ha una predisposizione ma magari non ha la tecnica è diversa diciamo è un percorso diverso rispetto a chi ha lavorato da piccolo in bottega e poi si è ritrovato a fare quel lavoro che era di suo nonno di suo bisnon quindi diciamo entrambe questi filoni cioè l'uomo tecnologico e l'uomo artigiano un po' sono due fenomeni che sono molto forti e molto presenti oggi in realtà per esempio io non in questo lavoro non posso dire di fare a meno della tecnologia totalmente scordatevi di fare un lavoro artigianale per esempio che qualcuno vi venga a trovare alla bottega nel senso che se poi fai l'artigiano magari c'hai un e-commerce oppure sei costantemente su facebook a raccontare a promuovere a fare rete insomma a utilizzare il social network come strumento di comunicazione di lavoro quindi in realtà per esempio c'è un mio amico di Troia che adesso sta lavorando ad un progetto del ministero che si chiama eccellenza in digitale che c'è anche qui in Puglia perché lui è di Troia e dei giovani italiani verranno formati per diventare web assist degli artigiani cioè nel senso che l'artigianato muore anche perché non riesce a comunicare a raccontare o ad arrivare ad un livello infatti per esempio Edizioni Precarie non ha una bottega cioè non ha un luogo un atelier uno studio un laboratorio tutto è fatto in casa quindi casa e bottega casa e putia e quindi e poi queste cose vengono vendute sia in altri negozi oppure in su internet quindi in realtà c'è una bottega virtuale c'è una bottega ci sono altre botteghe che distribuiscono molte volte vedo per esempio che a Palermo ci sono un sacco di botteghe artigiane che invece non hanno cioè che non fanno questo passaggio cioè non vanno su internet non vanno e quindi io mi chiedo ma come come vivono nel senso come perché è una cosa che vivo sulla mia pelle ma come fanno a campare cioè aspettano che il turista passi e compri diciamo è quello secondo me una riflessione da fare o comunque quando si vuole fare un lavoro del genere ed è una riflessione che ancora io sto facendo e sto cercando di sperimentare sentite? ok la domanda è sicuramente nei mercati troverai tanta tanti tipi diversi di carta quale criterio utilizzi per la scelta tattile unicamente per il racconto perché magari ti riporta a quella determinata artigiana quella determinata bottega e quindi legato al territorio al racconto di quel territorio quale criterio ecco scegli per l'utilizzo di una carta piuttosto che un'altra si infatti questo diciamo è importante perché servirà anche a noi nel senso che io poi vi darò delle indicazioni che sono quelle che magari appunto possono essere dei criteri di scelta della carta che andremo a cercare oggi a conversano sicuramente è un criterio legato per esempio al primo impatto cioè al primo nel senso che è legato alla prima impressione che non sempre è una cosa diciamo frivola nel senso che la prima impressione è proprio una sensazione e la sensazione può essere una sensazione visiva e quindi può essere per esempio una bella stampa ci sono alcune carte che hanno delle stampe molto belle altre che hanno delle stampe terribili e può essere una sensazione metà tra visivo e tattile nel senso che appunto è un materiale che può essere opaco può essere lucido e poi al tatto può essere liscio può essere secco asciutto oppure morbido e ruvido sottile o spesso e poi anche cioè funzionale nel senso che comunque penso se deve essere una superficie stampata mi servirà una superficie stampata e spessa per esempio per fare le copertine perché non posso ho provato e sperimentato anche a fare le copertine con della carta sottile ma poi è veramente una cosa troppo effimera e quindi ogni cosa al suo posto vai componendo un elemento che è molto semplice come un quaderno e c'è una copertina che è spessa e ha un interno invece più sottile può essere anche spesso a seconda che tu debba disegnare o scrivere o stampare addirittura e infatti l'ho dimenticato avevo tipo una sorta di cartario con tutti i tipi di carta interna perché molte volte le persone mi dicono sì ma su questa carta non si può scrivere no ma questo sicuro non e quindi cioè è anche un po' una forzatura ecco non è una cosa che cioè non è un foglio bianco su cui è arrivata finalmente un po' un applauso ma su allora vediamo se si allarga ok dunque quindi facciamo una una cosa un racconto veloce con le immagini perché in realtà doveva essere in parallelo altrimenti quindi poi e anche l'altro criterio di scelta è il luogo da cui viene quella carta perché può essere un luogo un luogo interessante un luogo ricco di suggestioni che va che va raccontato e una diciamo appunto degli elementi di questo racconto sono anche le immagini fotografiche che per esempio all'interno dei quaderni compaiono ma compare sempre una foto sola in bianco e nero piccola come se fosse non so il formato di una polaroid un quadrato così con una stampa con una stampa in bianco e nero fatta in casa perché in realtà non è l'immagine deve solo appunto essere un piccolo ricordo rispetto rispetto alla carta però c'è comunque avere un'immagine diciamo di un dettaglio comunque voler raccontare un dettaglio anche attraverso la foto a me diciamo viene abbastanza abbastanza spontanea cioè era una cosa che mi veniva abbastanza spontanea da fare e penso che è abbastanza immediato anche da recepire e per esempio queste foto sono state fatte appunto girando vagando attraverso i mercati questa questa selezione diciamo quest'ordine di selezione delle immagini è stata fatta dal computer però siccome c'è sempre questo gioco in precaria della carne e del carnet c'è questa ambiguità di trasformare appunto la carne e il carnet del quaderno questa prima immagine parla di carne e di carnet e c'è la carta lì c'è un piccolo pacchettino con la carta che è la carta su cui è timbrato questo motto che è stato preso un po' diciamo come motto appunto dell'impresa che è conserva la tua freschezza che è una frase che va bene un po' per tutto soprattutto molte persone poi alla fine regalano questi quaderni per i compleanni con la scritta conserva la tua freschezza perché è di buon augurio anche se il tempo passa e niente questo era un po' perché comunque venendo in Puglia Padre Pio nel senso che poi alla fine appunto nei mercati ti fai rapire di più dei dettagli cioè dei mercati o comunque di questi luoghi puoi fare per esempio delle foto turistiche o no folkloristiche cioè se tu metti su internet mercati di Palermo ti escono tipo banchi di arance cioè di pesce spada invece la cosa bella a volte è anche raccontare un piccolo dettaglio cioè nel senso una cosa che ti colpisce che non non ti racconta tutto o che non elogia non esalta non è folcloristica e questo è il signore delle sardine delle sarde sotto sale affumicate e lui per esempio è appunto una pietra miliare del mercato del capo ed è lì da quando aveva tipo otto anni adesso ce ne ha ottantadue più o meno e in realtà appunto conoscere questi personaggi è è totalmente cioè nel senso conoscerli è un po' fissarli soprattutto in immagini in immagine a me cioè a me piace perché comunque appunto un po' ti dà l'idea dell'effimero della precarietà delle storie di ogni storia che comunque sono dei passaggi sono delle cose che comunque finiscono e mi piace anche vedere la trasformazione che queste persone cioè che uno ha facendo cioè per esempio lui è molto cioè ha questa pelle tutta scavata e tipo anche lui sa un po' si è trasformato nel tempo come si come come la signora dei limoni per esempio che ormai non esiste più e io per esempio non l'ho fotografata e lei aveva una faccia tutta era un limone cioè era proprio una faccia una pelle tutta così questi invece sono i tipici coppi che si usano nei mercati quindi praticamente il appunto la figura la forma geometrica per essolenza del mercato è il coppo perché all'interno puoi mettere puoi distribuire le varie cose senza spiaccicarle cioè ha una forma particolare utile super antica ma anche atto moderno funzionale questo è un altro pezzo della storia diciamo che mi piaceva di Palermo che mi piaceva conoscere o raccontare quindi edizioni precarie è anche il pretesto per andarsene in giro a conoscere io prima di tutto altre storie o posti dove volevo entrare ma non è cioè entro tipo turista scusi posso fare una invece entro sto facendo un lavoro sulle carte comunque ti pigliano per pazzo perché ci sto facendo delle edizioni precarie con la carta dei mercati e loro dicono vabbè signorina però perlomeno c'è un motivo proprio pratico di aggancio nel senso che questa è un'antica rilegatoria che è rimasta penso così dal primo giorno perché adesso è solo un piccolo dettaglio ma è un ambiente in cui la polvere si confonde con i libri con le ragnatele volumi che sono rimasti lì cioè dimenticati da anni e da loro sono i fratelli barone che sono praticamente un'istituzione al capo cioè sono proprio nel senso che ogni volta che vado lì a rifilare i quaderni c'è qualcuno che si ferma cioè sono veramente un luogo nevralgico con la loro moto che è parcheggiata giusto davanti al bancone e in effetti io sto guardando qui ecco questo è l'ingresso l'insegna poi c'è il mercato ambulante che è tipico appunto penso anche di qui cioè i lapini che vanno in giro questo è il signor Pino che portano diciamo un po' appunto la frutta o il pesce per esempio in giro per la città e questo per esempio era invece un'altra cosa che era divertente cioè tornare ai mercati con il prodotto finito cioè tornare e chiedere a loro di vendere di far finta di vendere stiamo facendo un servizio fotografico per promuovere le edizioni precarie se può far finta di venderci questo quaderno ed è bello anche vedere la reazione perché poi è bello anche mettere a confronto cioè diciamo nel senso oltre a essere delle persone oltre a essere a prelevare qualcosa a prendere qualcosa è bello anche riportarla o portargli qualcosa che viene da fuori quindi in realtà anche diciamo uno degli obiettivi di questo progetto è cercare di diciamo di sperimentare che cosa può succedere dall'incontro di queste realtà cosa che molte persone fanno adesso cioè andare in campagna e avviare dei progetti per portare i giovani in campagna o portare gli anziani per esempio a rielaborare delle ricette insieme ai giovani insomma di esperimenti di questo tipo ce ne sono tanti per esempio però i mercati di Palermo sono praticamente una sorta di mondo settario di mondo chiuso una casta quasi nel senso che se tu vuoi aprire un'attività nessuno si sognerebbe di aprire un'attività all'interno di quella strada è come se fosse tipo un'area geografica urbana a sé parallela qui tu vai al massimo compri invece portare qualcosa lì portare dei libri lì cioè portare dei libri a queste persone che comunque si svegliano alla mattina alle tre stanno tutto il giorno lì comunque tra i pesci la frutta la carne comunque è anche un modo per non per appunto per prendere soltanto ma anche per sperimentare che cosa succede portando e loro sono rimasti cioè comunque erano contenti incuriositi quindi questo è un primo passo cioè nel senso che poi ci sono altre idee in testa tipo andare lì a fare delle presentazioni di libri in mezzo ai banchi del pesce cioè andare lì a fare delle letture o insomma finché proprio a un certo punto diranno siete pazzi andatene non vogliamo avere niente a che fare questo è un po' il simbolo delle edizioni precarie questo mucco maiale perché comunque è una mucca però diciamo l'hanno disegnata veramente in maniera un po' ibrida e quindi ha un po' il naso adesso non si vede bene ma il naso un po' da suino anche le orecchie ed è un po' diciamo il simbolo appunto della metamorfosi di questo unire due cose e far uscire qualcos'altro questo fa parte sempre del catalogo e lui per esempio è uno di generazione in generazione che fa il macellaio però ha capito che se non si svecchia un po' ed è un fenomeno paranormale per un mercato a Palermo se non si svecchia un po' facendo il macellaio può anche ammuffire insieme a tutta la carne e infatti loro fanno anche degli aperitivi la sera da quest'estate hanno iniziato a fare degli aperitivi loro che sono del mercato non vengono da fuori e questo è un po' un'anomalia questo è il banco delle spede della caglia e della semenza e lui è il fratello del start-up per macellaio il salumiere questo appunto fa parte di tutto quell'esperimento di portare i quaderni dal signor Pino dal salumiere e fare queste simulazioni queste finte finte questi invece sono i venditori di semenze a Palermo si usa dire caglia e semenza non so se si usa anche qui caglia e semenza sta per sono praticamente i ceci tostati e i semi di zucca salati e a me un po' faceva ridere perché mi sembra un po' tipo appunto un duo tipo Tom e Jerry caglia e semenza e la cosa bella di essere comunque cioè abitare lì ma essere esterno ti permette anche di guardare le cose in maniera con occhi diversi e quindi magari una persona che sta lì ha sempre caglia e semenza sa che cos'è invece uno che va in un altro posto a volte è più facile che veda che veda le cose in maniera appunto più più efficace più forte più evidente quindi per questo viaggiare fa bene e quindi per questo siamo conversando e poi voi verrete a fare il laboratorio a Palermo dei coppi la farina di ceci il mercato che appunto per esempio il mercato del capo e soprattutto il mercato del pesce e infatti ci sono momenti in cui ci sono proprio queste catombe di tonni e di pesce spada e poi soprattutto è un mercato turistico molte volte diciamo l'epilogo comunque lo sviluppo di una realtà come il mercato in un mondo contemporaneo è volclorizzarlo cioè renderlo un oggetto museale una cosa museale una cosa un luogo turistico che sopravvive grazie soprattutto al turismo e quindi molte volte per esempio appunto cose tipo non so l'uva passa i pinoli li trovi tutti confezionati in un modo o si vendono delle cose appunto che la perdagente normalmente non usano non usavano e niente quindi queste sono un po' scene per esempio vabbè questo è il tipico le tipiche targhette con i prezzi fatte sempre con legni di tipi diversi recuperati da manici di scope da rattoppati con lo scotch diverso ed è un po' un rituale cioè lui magari tutte le mattine monta e poi c'è questo momento in cui mette questi stecchetti che magari hanno vent'anni e poi sono e quindi il mercato o è turistico oppure è veramente l'alienazione più totale per esempio c'è il mercato questa è sempre una scena dal mercato del capo e quindi se entri dalle porte da Porta Carini nel mercato c'è proprio questo stapoteosi lampade luci colori suoni poi c'è una parte del mercato che appunto a un certo punto si snoda e in questa parte c'è un vecchio palazzo nobiliare che è crollato quindi hanno creato queste barricate dietro ci sono le macerie e i commercianti continuano a vendere sperando che arrivi qualcuno lì ma in realtà è come se fosse appunto la periferia poi questo signore vende solo olive non si sa come fa a campare perché ci sono anche questi venditori che vendono solo una cosa solo i limoni solo le olive solo le uova e lui è un po' l'altra faccia appunto di questa di questo cioè noi adesso abbiamo non so l'Ikea oppure l'Erua Merlin oppure per il cibo grandi centri grandi supermercati cioè chi va a comprare solo le olive non è più nel nostro diciamo nella nostra nella nostra realtà è un po' un po' irreale quindi appunto cioè un po' raccontare queste cose e anche un po' diciamo raccontare una realtà salve allora ricomincio da capo allora no raccontare appunto cioè il mercato e non vuole essere cioè raccontare il mercato oppure oggi noi andremo appunto in giro per botteghe per negozi non cioè cercando di nuotare poi nella nell'acqua non è un vuole essere un modo per essere dei passatisti o dei nostalgici o dei long shot che è una scelta appunto di di fissare un po' attraverso una cosa un oggetto che diventa poi il pretesto per poter raccontare queste cose di fissare delle realtà che ancora esistono per esempio a Palermo ancora esistono qui non lo so da un'altra parte saranno diverse e di raccontarle e anche di raccontarle in maniera critica cioè stimolando delle domande nel senso che poi alla fine veramente tu pensi che oltre ad essere magari uno che fa l'artigiano che fa il creativo o che fa l'editore o che fa qualcos'altro sei anche un consumatore sei anche uno che vive nel mondo che fa delle scelte anche e che può determinare anche determinare anche delle svolte dei cambiamenti e quindi per esempio raccontare del mercato a me piace per mantenerlo un tema comunque attivo di cui molte persone per esempio a Palermo si sono dimenticate o che diventa solo una cosa turistica invece raccontarlo e pensare ma magari a qualcuno cioè comprando questo quaderno gli viene l'idea però a questo punto io al mercato magari aprirei o inizierei con questa valorizzazione che non è teatrale non è far diventare la cosa finta ma o inizierei a lavorare con le persone per esempio secondo me è molto molto bio il mercato cioè come forma urbanistica come forma urbana cioè come il fatto che si snoda nella città non ha bisogno di grandi parcheggi non ha bisogno di grandi capannoni però non arriva mai il bio lì cioè non arriva il biologico cioè è proprio una cosa che loro non fanno l'esistenza di questa parola invece il bio si vende attraverso per esempio i gas che si incontrano nelle case tipo una delle sette delle caste non lo so quasi una setta massonica che si incontra segretamente che anche sui lati positivi c'è anche molto bello perché è un incontro però è anche un cioè perché per esempio non fare incontrare queste due cose senza snaturarle senza perché non potenziare una con l'altra insomma questo può essere poi tutto un discorso un trip che uno si può fare partendo da non lo so da questa cosa che vi sto raccontando da questi oggetti che appunto evocativi che evocano prima che arrivi la chiesa perché magari con diciamo non so potrebbe avere delle idee di recupero di questo è ancora sono diciamo gli strumenti tecnologici della rilegatoria barone con tutta la polvere annessa è un pesci vendolo i fiori si sono per la festa erano per la festa di Santa Rita e quindi tutti avevano perché Santa Rita a un certo punto al capo è un'altra cosa che fosse uguale infatti io quel giorno passavo per caso e c'erano tutte queste signore con le rose ogni tanto uscivano signore con le rose ma veramente tante e io ho pensato che era la festa della mamma anche se era non so non era proprio maggio e poi è bello anche appunto fermarsi e farlo come un'esperienza quotidiana andare a rubare attraverso diciamo fermandosi a parlare con il pesci vendolo i racconti legati a questa a questo episodio a questa giornata che è vissuta proprio infatti in questa giornata per esempio i bengalesi hanno la loro soddisfazione finalmente tutti gli comprano queste rose che per un giorno sono delle star e poi allora e poi qui invece ci sono un po' di esempi di cose che appunto edizioni precarie ha provato a fare che non sono solo quaderni ma per esempio questo qui è una raccolta di racconti 51 racconti per Paola che appunto faceva 50 anni ma i racconti erano 51 e questo è stato un esperimento in copia unica di rilegatura anche fatta a mano perché per esempio queste sono fatte con la macchina da cucire diciamo con la macchina da cucire mi sono trovata benissimo come consiglio come esperienza tecnica perché avevo appunto iniziato ho fatto questo corso di sartoria ed era stato un fallimento nel senso che proprio lavorare con la stoffa e con la macchina da cucire insieme mi ero comprata questa macchina da cucire anni fa pensando di fare grandi progetti di sartoria e invece poi alla fine ero veramente una chiavica nel senso che il cucivo si spezzava l'ago si spezzava il filo si spezzava la pazienza proprio non c'era la pazienza non c'era l'attitudine e invece poi facendo questo corso e avendo questa carta da parte ho iniziato a fare questi quaderni da lì è nato un po' ho visto che funzionava benissimo come attrezzo e anche come resa del punto della cucitura poi il fatto che la macchina da cucire ha vari punti che tu puoi utilizzare oppure puoi utilizzare l'ago per fare delle bucature per esempio questo quaderno tipo questa carta che è cerata non ci si può scrivere però si può bucare ed è fatto sempre con la macchina da cucire oppure ha diciamo questa copertina che è cucita con la macchina con un altro con un punto diverso poi le cose nascono anche molto per sbaglio nel senso che magari io pensavo che era che era settata la macchina su un punto lineare e invece vado a cucire e viene questo punto però bello e quindi quindi molte volte bisogna appunto sbagliare cioè soprattutto sbagliando poi nascono altre idee altre cose questo invece per esempio qui c'è una raccolta un po' di cose che ho fatto anche per su commissione cioè molte volte uno ha un'idea quindi la inizia a realizzare però poi gli stimoli vengono anche da chi dice ma hai mai provato a fare dei quaderni per un corso di cucina e questi erano dei quaderni per un corso di cucina di una cuoca di Palermo oppure per esempio questo è un esempio di partecipazioni fatte con la carta della carne sono veramente bianche geometriche semplici bianco e nero quindi sono delle vere e proprie partecipazioni però fatte cioè la cosa divertente è che comunque magari gli invitati non lo sanno o lo sanno sono fatte con la carta che è normalmente usata per cose carnali e non appunto per matrimoni o cose più diciamo sì questo è anche un album di matrimonio e anche qui c'è la bucatura poi a volte tipo uso queste bustine che ho trovato sempre in una vecchia bottega a Palermo infatti l'invito per esempio oggi è di andare a cercare e infatti tra un po' smetto di parlare di andare a cercare di andare a scavare cioè nel senso andare dai negozianti e chiedere cioè essere un po' vincere la timidezza che comunque c'è soprattutto cercare di dare informazioni senza passare per pazzi cioè non direi santa mi da un po' di carta del salame perché ci devo fare delle edizioni o non insomma cercare di comunque di indagare e di recuperare delle cose che molte volte i negozianti tengono nascoste per esempio queste bustine io le uso un sacco per metterci dentro le cose che poi attacco ai quaderni e quindi diventano in realtà una sorta di feticci cioè per esempio appunto alcuni quaderni che si chiamavano da consumarsi preferibilmente avevano all'interno questi tipo ex voto fatti però di farina e acqua e poi dipinti a mano che un bottegaio teneva nascosti in un cassettino quindi era tipo ma che cosa c'è dentro quel cassettino e lui no niente no ma c'è scritto San Giuseppe mi faccia vedere San Pietro no ma San Pietro è a giugno noi adesso siamo a dicembre non si vende adesso insomma quindi insistere sempre un po' e niente queste per esempio questo sacchettino aveva dei semi dei semi perché appunto l'idea era di legarlo al matrimonio dei semi di senape che era una ragazza turca un ragazzo palermitano che si sono sposati un po' in Turchia un po' a Palermo e niente gli avevo appunto regalato questo sacchetto di semi che è molto vabbè è un alimento però è anche appunto un simbolo diciamo un po' diventa un po' un messaggio questo invece è un erbacciario fatto con la carta del pane e la carta della frutta che quindi serve per contenere le erbacce e degli artisti ci hanno lavorato ne avevano dodici loro erano dodici ognuno ha lavorato al suo e sono nati un po' una sorta di libri d'artista fatti con foto collage ritagli stampe e disegni sono stati utilizzati per poi fare una mostra che ricordasse raccontasse diciamo che prendesse ispirazione dal lavoro di un botanico naturalista di Castelbuono che è un paese in provincia di Palermo sulle Madonie e quindi in realtà loro sono arrivati e mi hanno detto possiamo utilizzare i quaderni per le cose comunque nascono anche un po' dal contributo dallo stimolo di altri questa era una mia amica che mi ha chiesto ma potresti fare per Olivier una raccolta di buste di carte da lettera che io già facevo e poi per lui diciamo sono anche serie limitate nel senso sono esperimenti che poi magari è difficile riprodurre o su cui bisognerebbe lavorare per renderli riproducibili in serie più più ampie questa è una scatola che raccoglie un po' buste timbri quaderni questo invece è un quaderno che è stato una serie di 20 quaderni con all'interno una foto di un fotografo palermitano siciliano che ha fatto parte diciamo di questa collettiva mostra fotografica collettiva che si chiama Isola e che vuole raccontare con lo sguardo un po' più soggettivo vari raccontare l'isola raccontare la Sicilia quindi era una mostra fotografica e poi c'era il carnet di viaggi annesso e questo è anche un carnet di viaggi per degli artisti che hanno lavorato per Planeta che è un'azienda di vini siciliana e ognuno aveva appunto questo carnet che si è portato in giro una settimana durante questo viaggio che poi li ha portati appunto a realizzare a fare un lavoro sul viaggio su Planeta sui vitigni e poi ho portato qui diciamo un po' di di quaderni che sono ognuno fatto con un tipo di carta ognuno nato in un periodo diverso cioè nell'arco di un anno poi nasceva uno faceva una prova e poi lo iniziavo a realizzare poi lo iniziavo a realizzare in serie toglievo delle cose aggiungevo delle altre questi sono l'ultima forma cioè non è tutto quello che è stato realizzato da edizioni precarie però siccome come appunto i cibi sono prodotti stagionali prodotti di stagione adesso abbiamo questi e quindi magari potete non so potete passarli potete guardarli toccarli e diciamo che ognuno ha un po' delle carte delle carte diverse alcune più più rugose più spette più più sottili più lisce e quindi e sono tutte carte alimentari anche quelle celesti sembrano carte questa è stropicciata a mano con cura e questa è carta cerata che è tipo una carta appunto la carta che adesso invece non si trova più e si trova la carta totalmente plastificata ma che noi oggi troveremo se smette di piovere questo per esempio è un esperimento fatto con una mia amica che fa la gioielli molto brava lei è architetto però da sei anni gli architetti proprio destinati proprio alla metamorfo e quindi abbiamo unito il quaderno che è un erbacciario e quindi ha all'interno un po' la storia per esempio questo è il lino delle fate la storia di varie erbacce per recuperarle per raccontarle perché comunque hanno anche a fianco degli aneddoti molto interessanti questa pianta si chiama lino delle fate per un motivo e poi c'è l'erbalibro che appunto lei fa gioielli e quindi è fatto dottone insomma diventa un ciondolo l'idea appunto è di mettere insieme due cose un materiale povero uno invece o comunque un oggetto povero che è il quaderno perché oltre a essere un materiale poi alla fine il libro o il quaderno come dicevamo ieri con Serena molte volte non viene comprato non viene apprezzato non viene nel senso tutti siamo affascinati dalla scrittura dall'illustrazione però magari ci compriamo più facilmente un gioiello che è una cosa che ci portiamo che ci portiamo appresso che comunque è palesa in maniera evidente noi stessi cioè è una cosa che noi sfoggiamo e quindi vabbè gli uomini non lo so però magari la montatura degli occhiali cioè se io mi devo comprare un paio di occhiali vabbè gli occhiali sono anche utili però dico le scarpe o comunque qualcosa che ci portiamo dietro come una sorta di rappresentazione di noi stessi è diverso di un libro che custodiamo che conserviamo che non mostriamo ecco di viaggio che è contenuto nella carta della carne poi qui ci sono dei libricini dove ci sono sono praticamente un po' dei prototipi in realtà non sono finiti su cui sono scritte queste fiabe avevamo fatto invece questa primavera avevamo fatto delle edizioni più grandi di punto quaderno cioè all'interno di ogni quaderno erano tipo tre tipi all'interno di ogni quaderno c'era un racconto legato al mare infatti si chiamavano conti di mare della tradizione popolare mondiale perché a Palermo c'è un centro di raccolta fiabe che si chiama centro fiaba e narrazioni che praticamente raccoglie fiabe da tutto il mondo da cui è nato anche il libro 51 racconti per Paola e quindi l'idea era di creare appunto una serie di tre una specie di trilogie tre conti di mare tre conti di X di mercato e per ora sono rimasti i conti di mare quindi è sempre il fatto che comunque è tutto in progress e poi comunque il tempo proprio avverso poi in realtà qui ci sono un po' dei ritagli di tutte le carte ma soprattutto quelle interne la carta per i dolci non so se ancora si usa qui nelle pasticcerie possiamo andare anche nelle pasticcerie questa carta che può essere bianca celeste o rosa ed è una carta sottile che si usa normalmente per avvolgere cioè quando loro ti vendono la carne poi ti fanno un secondo strato con questa carta che è perfetta per scrivere perché è carta è bianca comunque non è stampata questa invece è la carta della frutta che si chiama carta bigia ed è cioè a Palermo si chiama bigia perché poi ogni carta ha un nome ed è questa qui è stampata e questa è un altro esempio di bigia sempre usata per la frutta molto più sottile poi che succede anche le carte in realtà per esempio peggiorano di qualità o cambiano di qualità la tendenza a peggiorare nel senso che poi alla fine magari usano delle stampe sempre più scadenti o usano materiali sempre più sottili questa per esempio è molto spessa e non tutte queste carte si possono stampare con una stampante infatti quando vado in tipografia mi odiano cioè a volte sono quasi riuscita a far rompere i plotter questa è la stampa mi stampavi anche i quadernetti piccolini perché è molto bella anche la stampa il tatto dell'inchiostro sono stampati a casa nel senso che comunque se vai nelle tipografie ti ammazzano ogni volta tipo no signorina no una volta veramente si stava rompendo una stampante ma perché il ragazzo cioè il ragazzo veramente imbranato adesso è in streaming però ha toccato delle cose che non doveva toccare sono staccati dei pezzi cioè insomma una tragedia non sono più tornata in tipografia quindi stampo a casa perché in realtà con questa carta non puoi chiedere a una tipografia ufficiale di stampare però per esempio con un mio amico che ha fatto l'esame di xilografia all'accademia quest'anno io l'ho aiutato a rilegare un libro e lui ha preso tutte le carte alimentari diciamo che ha cercato tutte carte diciamo insomma ha preso tutte queste carte alimentari e ha stampato xilografia che è il legno stampato con i torchi e anche la carta la carta cerata paraffinata che è questa qui su cui non si può scrivere è venuta stampata con degli effetti bellissimi quasi come se fosse neve cioè c'erano dei palloni come quando una foto in bianco e nero viene stampata analogica e ci sono queste bruciature questi punti di luce quindi in realtà con dei metodi tradizionali di stampa si può si può usare e allora in realtà abbiamo sperimentato un po' con la tempera però essendo soprattutto che si può usare cioè la tempera perché basta inchiostrare appunto il timbro e poi puoi timbrare oppure anche per esempio abbiamo stampato dei tessuti quindi un inchiostro per tessuti ma soprattutto china stampa timbri con tamponi poi per la stampa poi alcune sono stampate cioè sono carte già stampate e poi anche la stampante cioè la tecnologia ci sarà anche in questi giorni il libricino piccolino è stampato un po' con i timbri è un po' stampato stampante bianco e nero stampante quindi poi ci sono carte che vengono usate per scrivere altre che vengono usate come sottocopertina e altre più spesse che vengono usate come copertina oppure vengono ritagliate e vengono fatti questi collage per esempio i collage dei quaderni cagli e semenza che infatti vengono cioè li chiamo né carne né pesce appunto prendendo un po' dalla carta della carne e un po' dalla carta del pesce vengono fuori degli ibridi delle metamorfosi animale che non sono né carne e qui oppure per esempio questa che Vittoria diceva che non si trova più che è questa la carta dei devinette cioè degli indovinelli che sono questi quaderni su cui vengono su cui sono stampati questi indovinelli in copertina all'interno c'è la soluzione dell'indovinello e questa carta diciamo per esempio un mio amico usa adesso è diventato un patito di questa carta e usa solo devinette siccome adesso i devinette io li faccio con questa carta ma anche con la carta del pane non li vuole più nel senso che gli piace questa carta che alcuni dicono ma è impossibile scriverci sopra invece se scrivi con la penna viene poi lui è un grafomane quindi scrive veramente bene scrivere tutto preciso e anche ci disegna con la BIC viene proprio da anche una sensazione secondo me poi alla fine è anche cioè scegliere la carta su cui scrivere è anche un modo per far venire fuori cose diverse cioè ci viene anche un'attitudine diversa e quindi invece noi diciamo come si sviluppa questo laboratorio io adesso vi ho raccontato un po' di appunto di come del tipo di carte che io uso che noi usiamo del tipo di esperienza che si fa prima e quindi cercheremo di riprodurla anche se un quaderno su cui appuntare un quaderno e una penna su cui appuntare delle cose fondamentali degli spunti degli stimoli degli incontri dei nomi di persone e poi ci vuole un po' di faccia tosta cioè di andare appunto e ci vogliono i luoghi se andare alla ricerca appunto di questi luoghi all'interno del paese probabilmente è più facile andare qui nei dintorni nel centro non so se siete tutti di Conversano o non conoscete per niente Conversano o anche farci guidare da delle guide che saranno contentissime di bagnarsi per la seconda volta e quindi qui c'è anche una mappa non so se serve se voi volete un po' dare delle indicazioni siccome le carte che sono state già prese che sono lì dietro e che si usano qui adesso e che vengono prodotte nelle cartiere di Conversano hanno questa cioè sono lo step successivo della carta carta cioè sono carta plastica e questo diciamo vabbè si possono comunque usare da un lato e l'idea sarebbe di cercare carta carta e quindi diciamo i luoghi da attaccare potrebbero essere appunto le salumerie per vedere se oltre alla carta plastificata loro fanno un secondo strato di carta con una carta carta cioè con una carta senza plastica perché tanto nel primo strato mettono quella plastificata nel secondo chiudono con della semplice carta per rifinire quindi vedere se loro ce ne danno un po' naturalmente insomma non chili e chili però qualche foglio qui qualche foglio lì e poi per esempio oggi dicevamo anche che magari ci sono anche le farmacie che non c'entrano niente però le farmacie ti fanno questi pacchettini di carta per nascondere la malattia non lo so perché lo fanno però comunque ti chiudono la medicina dentro della carta oppure anche le mercerie o anche i panifici per esempio non hanno bisogno di plastica perché comunque il pane è una cosa che si consuma subito alcuni forse hanno anche ancora la carta hanno i sacchi vai ah ecco tipo sì tipo i sacchetti sì adesso infatti si usano soprattutto i sacchetti qui c'è proprio un archivio cartone questa è molto bella questa è proprio abbinata ah infatti come pochine con l'artiglio di conversano ah tu di dove sei e allora dobbiamo prendere la macchina quindi dove l'hai trovata cioè come allora no aspettate una sola cosa innanzitutto insomma grazie complimenti perché quest'aula è fantastica perché noi avevamo dato un'indicazione appunto come va detto la docente di attrazzarsi con appunto di iniziare la ricerca a casa quindi insomma il fatto che siate già venuti insomma si dice insomma di quanto è grande la motivazione quindi e poi soprattutto che i risultati siano così buoni perché anche noi ci siamo messi a cercare però ahimè noi abbiamo trovato solo la carta la carta però noi siamo andati anche ai produttori di carta non siamo andati nelle botteghe quindi diciamo questo lo facciamo vediamo ancora una chance a conversano e poi soprattutto mi piacerebbe sapere se tu questa già ce l'avevi già la collezionavi o invece allora io anche io amo la carta ho tanti quadernetti li compro e non li scrivo perché non li voglio rovinare quindi ce li ho lì e li guardo allora che li facciamo a fare? allora quando ho saputo insomma di poter partecipare mi sono fatta un giro in realtà a Terlizzi c'era il vecchio mercato del pesce che era l'esperienza più simile ai mercati di Palermo che ci hai fatto vedere c'era perché per questioni varie legate a dove era collocato a come si smaltiva poi tutta diciamo gli avanzi della vendita alla fine diciamo è morto e lo hanno cancellato anche strutturalmente dalla piazza e quindi adesso no non c'è più un vero mercato così all'aperto anche quello che a Terlizzi chiamano il mercato coperto lo chiamano così perché c'è una struttura generale all'interno della quale ci sono comunque dei piccoli negozetti che diciamo sono più evoluti diciamo così del bancone da strada per esempio le pescherie ed è aperto tutti i giorni ed è aperto sì sì però diciamo come un negozio ora di negozio non di strada una struttura coperta che ha la scritta classica con le lettere non lo so di piombo sopra mercato lioi sì bello però dentro un po' snaturato se vogliamo ma è nato da poco no no questo è il vecchio mercato coperto ecco perché è bello perché comunque diciamo ha la sua storia però adesso è vissuto diversamente mi sono resta conto che le pescherie usano la plastica almeno a Terlizzi bustine di plastica per cui hanno diciamo superato la fase soppresso la carta sì il panificio vicino casa mia aveva queste per la focaccia diciamo che sono internamente un po' carta da un lato è plastica sì leggermente plastificata e poi sempre carta a carta questa questo è sempre dal panificio panificio e questo e cosa ci fanno? è il pane proprio che è asciutto lo avvolgono sì che è una sorta di velina è una carta molto sottile e questa ce l'aveva anche il macellaio identica stesso colore che è questa qua il macellaio aveva anche la carta cerata proprio è questa ah vedi quindi simile più sottile un po' più sottile di questa no no più doppia di questa ah della tua ah ok non l'avevo toccata però cerata però cerata cioè cerata e non è per l'altro con una filigrana forse il marchio è filigrana e il marchio è Lucart Lucart che penso che sia questa cartiera grande che fa anche riciclo che ha tipo uno scogliato una colpina un animaletto che altro? ah poi il salumiere ha queste carte con delle stampe ah che hanno anche sì sono quasi metallizzate la discoteca queste sono diciamo un po' più carine questa è col marchio proprio della catena però sempre un po' olea classificata dietro sì per contenere il grasso e poi non lo so questo è tipo involucro dei biscotti però vabbè io me le conseguo tutte a prescindere questa ce l'avevo già data prima ma sì e poi questa non c'entra niente io me la sto conservando sono imballaggi no ma questa è però non è non è alimentare io le conservo perché ma per esempio questa qui è palermo è alimentare e a me no cioè questa qui è non è questa è quella del pane ma c'è n'ottanta ma è questa guarda è uguale questa è per la frutta ah ok ma questa magari è un po' più spesso qui la usano per imballare io personalmente la trovo diciamo mia sorella per altri motivi gli arrivano dei pacchi a casa che contendono prodotti che sono imballati con questa carta e io da mesi diciamo me la metto tutta la parte ma gli arrivano da fuori sì non da terlit no 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 quindi io me la sto conservando perché avevo in mente di fare delle cose quindi man mano me la conservo quindi ci sono diciamo delle patologie anche qui anche io quasi architetta ah è vero e qualcun altro ha trovato qualche altra carta carta questa viene chiamata carta da pesce sempre bianca vuoi venire qui lo riavvolgiamo tutto vai riporta conserva direttamente in cartolibreria grazie le prese in cartolibreria ah e questa è uguale a quella di un palermo che è che è carta usata per il pesce anche lì ah e questa che è tipo quella che usate che si usa qui in realtà questa non è alimentare cioè ci hanno detto che non è alimentare neanche se viene chiamata carta da pesce e forse non è più carta alimentare perché se viene chiamata carta per il pesce e a Palermo viene usata per il pesce non lo so quella è proprio per quella è per alimentare e viene usata anche di solito dai ristoranti le mettono come tovagliette la frittura io questa qui l'ho trovata al supermercato arrotolata proprio tipo non so carta stagnola che viene utilizzata l'utilizzo è proprio quello per i fritti quindi carta paglia c'è scritto carta paglia ah sì infatti è carta paglia e questa è stata probabilmente anche molto riutilizzata cioè è stata rilanciata nel senso che comunque è anche molto bella e quindi anche molto decorativa e per esempio qui mi diceva Pasquale che la cuoca fa degli origami che è arrivata la cuoca quindi adesso lo facciamo fare subito no no fa questi origami per contenere le fritture perché lei è giapponese e quindi fa gli origami quindi possiamo potremmo chiedere infatti un piccolo intervento cioè si potrebbe nel senso per esempio questa qui invece magari non viene più usata per il pesce perché perché non è plastificata perché magari non è a norma invece per esempio a Palermo la norma cioè ancora diciamo non è arrivata e quindi ancora viene venduta e ancora viene usata non si sa finché a un certo punto arriveranno lì e diranno non si può più usare questa e quindi viene venduta magari però ancora nelle cartolerie ed è una carta riciclata perché si vede che ha tutte delle dentro diciamo anche delle lettere a volte cioè per esempio io a volte passo lo spray la vernice opaca e vengono fuori vengono ancora fuori molto di più sia i colori che le letterine cioè dei giornali che loro usano che macerano e poi e poi fanno la carta e probabilmente ancora anche qui si possono cioè si possono vedere queste lettere che non vedo adesso e questa quindi è dalla cartoleria di Convertano no no io a Lecce a Lecce ok beh si chiama carta pesce si la vengono così perché è un posto dove fanno i quaderni quindi hanno queste carte che vengono un po' da parte perché non vengono molto vendute però siccome stavo cercando la carta particolare per fare i quaderni o per stamparci sopra allora si questa è proprio perfetta si si poi vedremo che ogni carta anche quelle carta carta hanno normalmente due lati e cioè hanno un lato più opaco ruvido e farinoso e un lato invece più liscio non così cioè quasi un po' lucido ora io non conosco il trattamento il procedimento però in realtà per esempio quando io stampo mi sono accorta che stampando sul lato lucido si fissa di più il colore ed è soprattutto siccome è una superficie liscia cioè quando vai a timbrare non ti vengono piatti quindi il colore viene omogeneo se stampi dall'altro lato invece viene male o potrebbe essere un effetto cioè nel senso non viene ovunque il colore e non rimane tanto quando stampi con la stampante bisogna stampare soprattutto una stampante di casa che non ha questo grande potere diciamo di stampa bisogna stampare è meglio stampare sul lato lucido che stampare sul lato rugoso ok allora e soprattutto è già diciamo è già tardi se stiamo ho comunicazione tutto di servizio rispetto alla cioè come prosegue un po' la giornata allora adesso noi usciamo io vi volevo solo diciamo dare qualche indicazione su che cosa cioè come come muoversi quindi la macchina fotografica il taccuino la penna e magari una sacca per contenere le carte perché poi portarsene in giro piove o comunque vi danno il piccio e che cosa cercare cioè che cosa andare a chiedermi tutto appunto i luoghi cioè andare a cercare le botteghe o i luoghi che sembrano un po' più interessanti ovviamente si può anche provare a chiedere alle farmacie o alle mercerie oppure se vi viene in mente un posto che potrebbe usare della carta particolare potete entrarci non è che diciamo non possiamo o i fiorai per esempio e poi appunto che cosa fare cioè anche fermarsi a parlare un po' con il negoziante cioè chiedergli che tipo di carte usa che tipo di carte usava come si è trasformato appunto come si sta trasformando chiedergli anche un po' un po' della sua storia naturalmente se vi incuriosisce cioè nel senso il criterio è appunto che che vi incuriosisca il luogo la persona e la carta cioè che vi piaccia anche la carta che usa magari potete chiedere anche a non solo ai commercianti ma anche alle persone che vanno a comprare poi per esempio può essere un pretesto chiedergli una ricetta cioè può essere un pretesto o può essere una cosa che potremmo utilizzare quindi inventatevi un po' un po' le domande può essere un pretesto chiedere dei dintorni del luogo o chiedere di altre botteghe o chiedere se c'è qualcun altro che fa la stessa cosa chiedere di aprire le scatole non so se ci sono addirittura queste botteghe primitive di aprire le scatole chiuse insomma o se ha per esempio alcuni tipo c'è una torrefazione a Palermo che aveva ancora pochissime carte che utilizzavano che stampavano e che non stampano più quindi magari ce le hanno messe da parte cioè se hanno delle vecchie carte che usavano siccome sono preziosi magari loro non lo sanno che sono preziose quindi magari ve le danno oppure invece magari non ci sono più oppure magari ve le fanno pagare o me ne danno una ma anche una va bene e quindi in realtà quello che faremo poi dopo non sarà scrivere dei racconti veri e propri ma farsi raccontare delle cose può aiutare anche alla realizzazione poi dell'oggetto del quaderno cioè che poi avrà un titolo cioè vi inventerete un titolo una casa editrice un diciamo appunto dobbiamo lavorare sugli input che vi vengono sì quindi cercate diciamo di raccogliere cose materiali cose immateriali tanta carta e quindi praticamente lavoreremo a questa cosa fino a pranzo che non so a che ora stoppiamo quindi avremo un'ora più o meno forse di più alle 13 e 30 diciamo di lavorare e adesso alla ricerca un po' fuori anche approfittando appunto del tempo poi a luna chiudono i negozi sì verso luna più o meno chiudono quindi insomma intorno a quell'ora poi ci si rivede qui c'è la pausa pranzo noi abbiamo pensato appunto solo di un'ora in modo tale che anche chi viene da fuori non deve ecco stare tanto tempo ecco così senza far nulla quindi insomma comunque ovviamente insomma si può rimanere qui se piove quindi tranquillamente poi andando in giro magari se volete comprare a volte il vostro pranzo a sacco potete la carta può essere anche l'imballaggio del vostro pranzo abbiamo allertato questo abbiamo fatto anche abbiamo allertato alcuni ci sono dei forni insomma qui nel centro ce n'è uno che è stato già allertato per esempio avevamo recuperato delle carte per la farina quindi quella in effetti i sacchi proprio quelle carte quindi c'è un forno che ce ne ha messo un po' da parte però ci sono insomma girando un po' qui nel centro storico è facile non ci si perde ce ne sono diverse poi se volete anche osare potete anche se incontrate tipo qualche signora che magari si mette la carta da parte perché poi per esempio mia madre la carta del pane la conserva tutta per fare poi le fritture quindi magari potete chiedere se ve ne dà un po' cioè non lo so diciamo senza forse però io direi che si può partire perché poi alla fine il pomeriggio è anche difficile tornare nei negozi perché aprono tardi cioè magari approfittiamo possiamo allora io mi muovo da sola di solito però è chiaro che magari voi non siete di qui magari ci si può spostare in gruppo ma poi se qualcuno se qualcuno si sente assolutamente libero di andare da solo o assolutamente libero di andare in un posto che magari colpisce l'attenzione o in due diciamo in maniera o chiedere a chi è di qua uscendo fuori dove si può andare dicevano che ora ci rivediamo a luna cioè quando diciamo luna e mezza diciamo quando la vostra ricerca è conclusa insomma qui rimane aperto cioè si ricomincia alle due e mezza soddisfatti insomma si può ritornare sì diciamo qui e poi sì diciamo alle due e mezza poi c'è però appunto se avete finite prima insomma si può venire qui e si inizia a vedere il materiale che avete recuperato sì io direi mangiamo e poi lo vediamo con calma lo mettiamo di là insomma e il materiale sarà quindi anche foto nomi nomi di persone personaggi luoghi cioè quindi scrivete anche ok grazie a tutti Grazie a tutti